Accendilo! Non è possibile, tienila vicina, verrai a cercarla. Dov'è Miranda Tate? La pressa Paine è barricato nel municipio circondato dal suo esercito. Questo blocca l'inesco telecomandato della bomba. Mettilo sul camion prima dell'alba. Potrebbero premere il pulsante quando comincerà. Quando comincerà cosa? La guerra. È rimasta una macchia. Se ti muovi da solo, metti una maschera. Non ho paura che mi vedano combattere questi uomini. La maschera non è per te, è per proteggere le persone che ami. Conta fino a 5 e lanciala. Ehi, senza offesa, in quella cintura hai qualcosa di meglio? Che facciamo? Un assalto totale a Paine. Ma devi mandare tutti al di là del ponte. Perché? Se dovessimo fallire, devi guidare l'Esodo. Metti in salvo più persone che puoi. Non ti servo qui. Mi hai dato un esercito. Ora vai. Ehi, grazie. Non ringraziarmi ancora. Potrei non averne più l'occasione.